. Motogp Austin 2018, programmazione dal 20 al 22 aprile, diretta Sky e TV 8. La Motogp scende di nuovo in pista per la terza tappa del Mondiale in programma dal 20 al 22 aprile 2018 nel circuito di Austin, negli Stati Uniti. . Dopo quanto accaduto in Argentina, con l'incidente avvenuto a quattro giri dalla fine tra Marc Marquez e Valentino Rossi, la tensione è alle stelle. Soprattutto considerando che la pista texana è tradizionalmente adatta al pilota spagnolo che si è aggiudicato la vittoria nelle ultime cinque gare. . Spazio anche al desiderio di rivalsa di Andrea Dovizioso, che due settimane fa non ha particolarmente brillato, perdendo il primato in classifica. . Il weekend di Motogp sarà trasmesso in diretta ed esclusiva per tutti gli abbonati Sky, ma questa settimana ci saranno buone notizie anche per i non clienti. . . Orari Motogp Austin 2018, dove vederlo su Sky. . Il weekend del Motogp di Austin 2018 avrà inizio venerdì 20 aprile con le prove che verranno trasmesse. . 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 Al numero 8 del Digitale Terrestre, sarà possibile seguire in diretta le qualifiche di sabato. 21 aprile dalle ore 21.10 alle ore 21.50 e soprattutto la gara, in onda domenica 22 aprile alle ore 21.00. . . Chi non avrà la possibilità di seguire la gara in televisione, potrà comunque restare aggiornato sugli sviluppi del weekend. . 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 diretta sarà visibile e aperta anche ai non abbonati a partire dalle prove libere di venerdì 20 aprile fino alla gara della domenica.